attacco aereo autorizzato almeno di 10 nemici ci resti solo tu fatti valere postile in discesa nell'area occhio in alto alla nuova zona sicura assi in avvicinamento cazzo mi hanno colpito ne rimangono 5 concentrati cazzo in arrivo postamento nella zona sicura cazzo in arrivo cazzo ottimo lavoro sottotitoli 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 sottotitoli